Il teatro è un corpo a corpo, lo spettacolo teatrale risente tantissimo, anzi è fondamentale, un rapporto d'amore tra la compagnia teatrale e il pubblico. Quindi avere un pubblico così diradato crea sicuramente, incide sulla qualità della prestazione. Come mai gli aerei, le compagnie aeree, hanno la possibilità di essere tutti uniti in un'area molto piccola, che stanno un'ora almeno di volo c'è, tutti con la mascherina e perché questo non è possibile nei teatri? Non lo so, questa è una domanda che non ha logica. Non esistono solo i teatri ma esistono soprattutto le compagnie, le compagnie teatrali composte da più di 4, 5, ma anche 20, 30, 40, non potrebbero certo essere coperte, quindi il costo anche della compagnia non sarebbe sostenibile. E allora cosa comporta? Dovrei fare monologhi o produzioni a 2, a 3, a 4, a 5, distanziati, ma certamente andiamo un pochino a ridurre l'attesa del pubblico e quello che è il repertorio classico, ad esempio del nostro teatro che è il Tempio del Musical. A differenza forse di tutti gli altri mestieri, l'attore, il cantante, l'acrobata, il musicista, usano il corpo come strumento di lavoro, quindi lo strumento di lavoro non può essere lasciato in panchina. Un calciatore in panchina dopo un po' diventa un brocco, quindi è necessario farli lavorare. Questa sala vuota per lei, ma anche per il suo pubblico, per la città di Roma, che cosa significa? Per me, che sono otto anni che dirigo questo teatro, ogni volta che entro questo silenzio, un silenzio che trasuda spettacolo, quindi in realtà è un silenzio assordante. Dall'altra parte vedo che tutti mi chiedono continuamente quando riapriremo, perché tutto il quartiere, comunque la città, vivono del nostro indotto. Noi siamo un avamposto culturale come sono tutti i teatri e l'infrastruttura culturale di questo paese andrebbe tutelata. È alla base di una società civile sana.